Dopo l'edizione numero 40 avvenuta nel 2016, si riparte dunque per un nuovo traguardo importante con la Reggello Vallombrosa. Domenica 9 luglio, eccola ormai classica attenzione per specialisti della salita, visto che di fatto l'intero percorso ha una pendenza non certo favorevole ai velocisti. La gara, organizzata come sempre dal gruppo podisti Resco-Reggello, si celebra sulla canonica distanza di 13,2 km con partenza da Piazza Garibaldi nel capoluogo reggellese alle 9. Il ritrovo è fissato già da 90 minuti prima ed arrivo all'abbazia di Vallombrosa con un dislivello di oltre 550 metri che di fatto non concede momenti di recupero agli atletichi. La Reggello Vallombrosa vale anche come terza prova del trofeo Levante-Fiorentino. Lo scorso anno doppietta dell'Atletica Castello con Massimo Mei primo e Luca Lastraioli secondo. Il muro da abbattere verosimilmente per chi volesse tagliare per primo il traguardo resta quello dei 50 minuti. Le previsioni meteo danno una giornata caldissima senza nubi a fermare il sole, ma questa purtroppo è l'abitudine del periodo attuale e di questa estate.